Musica Dalla boutique del Bergamotto Stita, la Rampa Mignanelli a Roma, noi oggi lanciamo una serie che saranno le interviste, le conversazioni, dei reading letterari che ci saranno da settembre all'interno di questo salotto. Oggi, 25 luglio, cominciamo con una data importante e toccante perché è l'anniversario di morte del professor Luigi De Marchi e noi qui oggi insieme ad Antonella Filastro, calabrese, anche lei come i titolari della boutique del Bergamotto presentiamo proprio le conversazioni esistenziali per una psicologia esistenziale umanistica. Allora, dottoressa Filastro, è stata un'ardua impresa io credo perché a un certo punto c'erano delle lezioni meravigliose del professor De Marchi che sono state riprese in mano dopo la sua morte e lei che aveva assistito alle lezioni, com'è stato riprenderle in mano? Cioè, quali sono state le emozioni, gli effetti? Beh, intanto queste sono state delle lezioni che Luigi De Marchi ha tenuto nel primo quadriennio della scuola di formazione negli anni 90. Io sono stata una sua allieva e per me è stata una grande emozione, una grande emozione perché mi sono ritrovata di fronte ad un materiale che tutt'oggi mantiene ancora una sua freschezza e una sua attualità e sentir ascoltare la sua voce è stata un'altrettanta emozione. Delle bellissime lezioni che immagino venissero tenute con l'estrema semplicità, spontaneità ed immediatezza tipica del professor De Marchi. Com'è stato portare quelle parole su carta? Lì è stata necessaria la supervisione, la supervisione della professoressa Carla Rata che tra l'altro ringrazio, una mia amica, che appunto ha provveduto a supervisionare, a selezionare quelle parti che andavano ritoccate, però mantenendo sempre la genuinità di queste conversazioni. Ecco, per arrivare alle conversazioni esistenziali per una psicologia esistenziale umanistica, quanto tempo c'è voluto? Ci abbiamo messo quattro mesi insieme al collega e amico filosofo Alessio Finetti, che è docente di filosofia esistenziale nella scuola di psicoterapia umanistica esistenziale diretta da me e che il professore ha lasciato a me. E quindi, insomma, sì, come tempistica ci abbiamo messo tre, quattro mesi. Abbiamo trovato quest'editore, Alpes, ed è stato pubblicato questo libro all'interno della collana Orientamenti del professor Massimo Biondi. Benissimo, allora entriamo nel merito del libro. Un libro diviso in sei capitoli. Cerchiamo di evidenziare che cosa contengono questi capitoli. Allora, intanto, ecco, riprendo un po' quello che dicevo inizialmente. Queste lezioni rappresentano per noi una bussola che orientano lo sviluppo, con l'apertura di un nuovo capitolo della psicologia esistenziale. Come sappiamo, ecco, la ricerca psicologica esistenziale è sempre una ricerca aperta, è una riflessione ininterrotta. E quindi poter poi rendere attuali ancora di più queste conversazioni è stata di un'estrema utilità. E come entrare, come diceva De Marchi, in uno spazio in cui tra dramma e bellezza, tra amore e dolore e gioia, si misura questo insopprimibile ottimismo della cellula e questo bisogno irrefrenabile di verità dell'essere umano. Questo è un libro fondamentale che possiamo intanto, diciamo, prima di leggere, trovare dove, comprare dove? Allora, lo troviamo alla libreria Feltrinelli, quasi in tutte le librerie di Roma, l'editore è Alpes ed è, appunto, ripeto, è stato pubblicato nella collana orientamenti diretta dal professor Massimo Biondi, che è il primario di psichiatria del Policlinico Umberto I dell'Università della Sapienza di Roma. Io immagino che ci sia un capitolo, un passaggio più importante degli altri per lei e vorrei che mi mettesse a parte insieme ai nostri videoascoltatori, che so che ci sono delle pagine che per lei sono particolarmente significative. Infatti, in queste lezioni è possibile, ovviamente, riscontrare la genesi e il pensiero di Luigi De Marchi, un pensiero che ha portato alla fondazione anche, alla creazione di un metodo psicoterapico che vede nell'angoscia di morte, della propria morte e della morte dei propri cari, una delle cause del malessere psichico umano. Però vorrei leggere alcuni passi. Così scrive in Lo sciocco primario. Ecco, vorrei sottolineare che Lo sciocco primario è la versione aggiornata di Scimietta Ti amo, che è stato il suo primo libro pubblicato negli anni Ottanta, in seguito anche ad una esperienza drammatica di De Marchi, la morte di una sua compagna. Così scrive in Lo sciocco primario. La cultura umana è stata fin dai suoi primordi, resta tutt'oggi, soprattutto una formazione reattiva o difensiva contro un trauma primario della nostra specie, che definisco sciocco esistenziale. L'improvvise ricorrente ondata di panico e disperazione scatenata dalla morte nella mente umana, quando questa divenne così tipicamente capace di intuire il suo destino di morte, di immaginare e attendere il proprio annientamento, di partecipare così dolorosamente all'angoscia e alla morte dei suoi simili, e di ripetere quotidianamente questo tormento nella memoria, nel lutto e nell'anticipazione. Grazie, questo è sicuramente un passaggio molto molto sentito. Gigi De Marchi, quanta produzione bibliografica ha prodotto? Quanti libri ha scritto De Marchi? Direi abbastanza. Direi abbastanza perché De Marchi è stato, in parte, il fondatore dell'Aied, del profeta dell'amore, e quindi è stato anche uno scrittore saggista, iniziato già dagli anni 50, con sesso e civiltà, repressione e oppressione sociale, biografia di un'idea di Willem Reich, e poi, insomma, altri libri. Noi, dottoressa, siamo felici di averlo potuto ricordare oggi, se lei crede abbiamo ancora il tempo per un altro passo. Lascio davvero le ultimissime battute alla dottoressa Filastro, con uno sguardo veramente all'orizzonte dell'ottimismo in questo pensiero. Sì, De Marchi parlava sempre di questo ottimismo della cellula, l'insopprimibile ottimismo dell'essere umano, della cellula, per cui mi viene in mente quello che ha lasciato Henry Bergson in queste sue parole. Vedo l'umanità come un'armata a cavallo che galoppa attraverso il tempo e lo spazio in una carica eroica capace di travolgere ogni ostacolo, forse anche la morte. Grazie. Grazie. Grazie.